Se ne è parlato tanto perché ci sono stati diversi episodi di evasione dal carcere di Pescara, ci sono altre problematiche. Oggi il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, è andato a fare la sua quarta visita ispettiva al carcere San Donato. Su tutto emerge una cosa che potrebbe sembrare una battuta, ma che in realtà è una riflessione di amarezza. Anche Domenico Pettinari sarebbe in grado di evadere dal carcere di Pescara? Forse è troppo, però questo per segnalare? La mia riflessione appena sono uscito a caldo è stata questa. Anche io che non sono un atleta, dopo quello che ho visto oggi, sarei in grado di evadere dal carcere di Pescara. Uno perché ci sono mure di cinta bassissime di 3 metri, con delle situazioni abbastanza particolari. Mentre le mura di cinta dovrebbero essere 7-8 metri, quindi la prima cosa che va fatto subito, strutturalmente, mettere mano e fare una vera recensione idonea e adeguata. Ma non solo, ho visto una struttura gravemente fatiscente, gravemente fatiscente all'interno, qualcosa che non si può neanche rappresentare, una carenza organica di personale che fa paura. La stessa direttrice mi ha detto che mancano 60 poliziotti all'alpello, un carcere cittadino come quello di Pescara, dove mancano 60 poliziotti. Potete immaginare voi, ho visto delle sezioni completamente sfornite di personale, perché il personale che si doveva alternare e coprire più sezioni, lì ogni sezione sono 80, 90, 100, 160 persone. Ci sono scale interne dove accedono, non differenziate, dove accedono 160 persone per passare da un reparto all'altro. Situazioni veramente vergognose. Io, dopo aver scritto più volte al Ministero, sono arrivate pochi rinforzi, circa 10-12 persone, che non riescono a coprire nemmeno i pensionamenti. Quindi andrò subito a scrivere nuovamente una lettera dettagliata al Ministero della Giustizia, chiedendo lavori urgenti e soprattutto gli automatismi. Troppe, tante porte non sono automatiche, quindi questi poliziotti che devono fare più reparti. Una persona sola vanno con un mazzo di chiave ancora ad aprire e chiudere quando ci vuole un automatismo fatto per bene. Quindi scriverò, chiederò interventi strutturali. Non è risolto nulla il carcere di Pescara. Il carcere di Pescara non si può vivere così. Un ringraziamento ai tanti poliziotti che in prima linea rischiano veramente la vita, davvero la vita, perché spesso vengono aggrediti. Ma vengono aggrediti perché ce ne sta uno per 80 persone. E un solo poliziotto non può gestire 80 persone a turno. E poi non ci sono sistemi di sicurezza adeguati. Infatti le quattro evasioni nel giro di pochissimo tempo. Ecco, scriverò subito. Mi auguro che presto mi daranno ragione e inizieranno lavori strutturali e soprattutto in missione di nuovo personale ruolo.